Ragazzi, buona giornata a tutti. Allora, innanzitutto, come sempre, mettete mi piace. Dai, prima cosa da fare, aprite il video e cliccate mi piace. No, perché dite che mi stimate, che mi supportate, allora supportatemi gratuitamente, è un gesto gratis, gratuito. Quindi, mi raccomando, mettete mi piace al video che serve a me come creator per questioni di algoritmi, sapete bene. Quindi, mi raccomando, mi raccomando. Allora, innanzitutto, grazie per queste serate che adesso stiamo facendo un po' con la Juventus, per quanto riguarda la preparazione di Formula Juventus, avete visto che sono un brocco totale a Formula 1, vabbè. Non ho mai giocato, ho giocato solo due giochi di gare, uno era, cos'era, Nascar, e l'altro, vabbè, Need for Speed. Che, vabbè, non è, non è, non sono piste, la puoi fare del cazzo che vuoi. Però a Nascar, all'inizio degli anni 2000, giocavo, che giravi attorno, quindi non ci vuole a chissà che tecnica, no? E quindi è il primo gioco vero, diciamo, di gare che faccio, che è Formula 1, che ci vuole tecnica, ci vuole pazienza, ci vuole testa, ci vuole tanto, tanto. E pensate ai piloti, come cazzo fanno? A livello anche fisico e mentale, quindi, veramente... Però, al di là di questo, il nostro compito è distrarvi da un'annata di merda della Juventus con Allegri, indipendentemente appunto che vinca o non vinca, perché qualcuno non ha capito che non è il problema di vincere lo scudetto o meno, il problema è il futuro. Adesso poi parliamo di questa situazione qua. Quindi il nostro compito, comunque, quest'autunno o inverno sarà un po' di intrattenervi, di divertirci insieme, indipendentemente da chi vincerà, anche se io ho le mie idee. Di chi vincerà, io sarò molto distante da chi poterà appunto per vincere. E niente, ogni tanto avete visto quando c'è uno spazio, un buco tra una live e l'altra, cerco di incastrarmi con live di Formula 1 per allenarmi anche per i cazzi miei. Quindi va bene così, va bene così. Allora, detto questo, chiusa parentesi, mi raccomando, a settembre, a settembre, state connessi, lo dico in italiano, non stay tuned perché io sono italiano, quindi state connessi. Allora, allora, notizie, notizie, notizie arrivate, che mi sono arrivate ieri, sulla questione società, giuntoli a Allegri. Allora, la situazione è anche spogliatoio, bisogna dire. Perché la situazione non è idilliaca per niente, anche se fanno passare il contrario. Ci sono ancora molti giocatori nello spogliatoio da Juventus che non sopportano Allegri, che non vorrebbero lavorare con lui e sono costretti. Mi è stato detto anche che se fosse stato per Giuntoli Allegri sarebbe stato, diciamo, allontanato, ma non perché, come vi dicevo, Giuntoli è arrivato per fare la lotta ad Allegri. Giuntoli è arrivato con la consapevolezza che John Elkan l'aveva confermato, o comunque aveva deciso di non esonerarlo. E che sì, sarebbe dovuto rimanere in questa situazione qua, perché comunque la società, quelli di prima, hanno detto non possiamo esonerarlo per questo motivo, per quell'altro motivo. E c'è anche il discorso Champions, tutti questi discorsi qua. Giuntoli è arrivato, non con il diritto di poter scegliere se tenere o cacciare Allegri. Con la consapevolezza che Allegri sarebbe rimasto, quindi uno che arriva, un professionista che arriva e gli dicono, guarda che Allegri rimane al 100%, tu devi fare adesso, limitare i danni, Giuntoli inizia a lavorare con Allegri. Non è che poi inizia a fare la lotta ad Allegri. Questo deve essere chiaro, no? Detto questo però, come vi dicevo all'inizio della stagione, questa stagione qua, vi dicevo che certe cose non sarebbero state un po' più tollerate, no? Adesso non è una cosa gravissima, però le dichiarazioni di Vlaovic che vi ho riportato non sono piaciute né alla società in generale, ne ha lo stesso Giuntoli che deve vendere lui, perché se Allegri vuole Lukaku che Giuntoli non lo vorrebbe minimamente, lui se vende Vlaovic per Giuntoli, cioè Giuntoli vorrebbe lavorare su David, ok? Dell'IL di chi cazzo è? Quindi non su Lukaku, che sento il Corriere dello Sport continua a battere Lukaku, Lukaku, accordo con la Juventus da 9 milioni l'anno. Adesso vorrei capire da parte dei giornalisti che si parla di abbassamento di età e di ingaggio perché la Juventus dovrebbe andare su Lukaku che è over 30enne praticamente con 9 milioni di euro l'anno. E poi parliamo anche di che si, un altro giocatore, poi torniamo a noi, un altro giocatore che appunto non è vecchio perché va per i 27 anni a dicembre, non è vecchio, non è neanche giovane però perché giovane significa 18, 19, 20 anni, 21 massimo, poi bisogna, l'età di che si dovrebbe essere l'età di maturazione del giocatore. E non credo che abbia fatto questa, sì ha fatto delle buone stagioni al Milan, ha fatto la stagione dello sconetto entusiasmante, sì ma in serie A, appena questi giocatori qua vanno fuori dal confine italico falliscono miseramente, miseramente, perché solo questo contesto li sopravvaluta, lo ripeto. Poi c'è qualcuno, non è che io sono, no, dal campionato italiano per me qualcuno è salvabile, potrebbe fare bene in altre realtà, vi ho sempre detto Martinez, vi ho sempre detto Teor Nandez che per me da altre parti avrebbero fatto anche, da altre parti bene, non le cose che hanno fatto qui in Italia secondo me ma avrebbero fatto comunque bene, come hanno fatto bene Salah, i Salah, i Cancelo, no, De Litt che chi parla di un De Litt che ha fatto male l'anno scorso, che il Bayern Monaco ha rischiato di non vincere la Bundesliga per colpa sua e in mala fede perché è prevenuto nei confronti del ragazzo, De Litt è stato uno dei migliori del Bayern Monaco, uno dei meno peggio, ok, che ha diciamo tenuto la baracca del Bayern Monaco. Quindi ci sono alcuni giocatori che hanno fatto bene andati via dall'Italia, comunque De Litt è strapagato, è andati via dall'Italia all'estero, però sono una piccolissima percentuale rispetto a quello che succedeva prima. Prima non succedeva neanche, però c'era qualche giocatore che andava via dall'Italia e in percentuale rispetto ai giocatori che andavano via e che poi facevano bene era alta. Non c'erano giocatori che comunque andavano nei campionati esteri perché comunque l'Italia non è mai stato un campionato che dava i giocatori in giro perché comunque una volta il campionato italiano era anche il campionato migliore e quindi rimanevano per questo motivo nelle nostre squadre. Adesso rimangono per una questione di comfort zone perché sanno che da altre parti potrebbero fallire avendo gli esempi di altri colleghi che dall'Italia sono andati da altre parti hanno fallito miseramente. Torniamo a noi. Giuntoli e società sono stati molto arrabbiati, molto incazzati per le dichiarazioni di Massimiliano Allegri sull'Aovic e sulla pubalgia. Piccola parentesi, la pubalgia, perché qua mi sembra che la pubalgia sia una questione di giocatore e basta. La pubalgia Vlaovic non è venuta fuori alla Fiorentina, è venuta fuori a fine stagione, alla fine della prima stagione di Vlaovic, dei primi sei mesi con la Juventus, a maggio 2022. Lì è venuta fuori la pubalgia di Vlaovic. La pubalgia, se vi andate a studiare come può venire fuori la pubalgia, può venire fuori la pubalgia per due motivi, che sono comunque di carattere fisico e di allenamento barra preparazione. O è il giocatore che si allena male e che può quindi far uscire la pubalgia o è allenato male. Perché la pubalgia comunque è una questione tra virgolette diciamo quasi muscolare, nel senso che comunque è un problema paragonabile ai problemi muscolari. Ok? È una questione di allenamento. Allenamento fatto male, allenamento sbagliato, perché comunque ogni singolo giocatore a quei livelli là viene allenato, viene preparato atleticamente individualmente. C'è una tabella atletica, ok, per ogni singolo giocatore. Se viene sbagliata quella tabella possono creare, possono venire fuori problemi fisici come la pubalgia e come lesioni di primo grado, secondo grado, lesioni muscolari di primo grado, secondo grado, terzo grado, eccetera, 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 problemi alle articolazioni. Ci sono vari, vari problemi. Ok? Quindi, sotto questo aspetto, tant'è, tant'è che a me avevano riferito dopo il mondiale, che Vlaovic ha giocato poco anche lì, che Vlaovic è stato, insieme ai suoi, diciamo ai suoi agenti, è stato molto scocciato da come è stata gestita la pubalgia da parte dello staff di Allegri. Ok? Quindi, chiusa parentesi. Detto questo, quelle dichiarazioni là, durante il calciomercato, su un giocatore che tu non vuoi, perché è palese, ragazzi, che Allegri non voglia né Chiesa né Vlaovic e che loro non vogliono Allegri. Punto. Cioè, è palese, poi non andranno via, dovranno convivere. Vabbè, questo è un altro discorso, però è palese che all'inizio della stagione, dopo la stagione precedente, questi qua non vogliono collaborare, cioè non vogliono lavorare insieme. Punto. Su un giocatore che tu non vuoi, che vorresti Lukaku al posto suo, tu dici una cosa del genere, ok, con il tuo capo area sport, cioè aggiuntoli, che dovrebbe cercare di piazzarlo e di venderlo, così tu lo fai il meno vendibile possibile, se non a dei prezzi di sconto, praticamente, di saldo. E quindi questa cosa qui ha dato molto fastidio non solo alla società, ma anche aggiunto lui stesso, che l'ha messo in difficoltà. Cioè, c'è poco a fare. È così. Detto questo, per il resto, la situazione mi è stato detto che c'è una piccolissima percentuale, cioè mi hanno detto praticamente, non dare per scontato che neanche a settembre, che anche a settembre non possa succedere qualcosa di clamoroso, di esoneri, di dimissioni, di sterobe qua, perché ha detto magari potrebbe anche lui lasciare se le cose vede che... perché mi è stato detto che anche lui è nervosetto, nonostante faccia vedere il contrario pubblicamente, in questo momento qua. È nervosetto perché sa che l'ambiente non è totalmente dalla sua parte e quindi è un po' una situazione così, è un po' una situazione così. E quindi mi ha detto di non escludere nulla, anche se le percentuali sono molto basse. Io, infatti, credo che partendo con questa stagione, a meno che non accadano cataclismi che nel primo mese e mezzo, cioè entro novembre tu sei decimo, faccio un esempio, neanche in quel caso, secondo me. Però credo che questa stagione qua allegri la inizi e la finisca, ma è una mia sensazione. Anche se comunque mi viene continuamente detto che ogni passo falso potrebbe essere il suo ultimo passo falso perché, insomma, la società, diciamo, è giunto lì anche, è giunto lì, sembra che collabori con Allegri, che sia... ragazzi, Giuntoli, se fosse stato per Giuntoli, se è mandato di Allegri, se è benvenuto Spalletti, cioè, ve la dico papale papale, come la pensa Giuntoli, quindi è inutile girarci attorno, giuntoli alle sue preferenze. Non è uno prevenuto nei confronti di Allegri, cioè si deve lavorare insieme ad Allegri, ci lavora senza fargli le lotte, perché non ha avuto ancora nulla a parte questa cosa qui. Quindi vediamo se magari sono le prime, i primi screzi, diciamo, lo spero, io sinceramente mi auguro. Io ripeto, se fallisce miseramente Allegri non mi interessa, questa stagione qua, anche, cioè, vinca o non vinca lo scudetto, per me questa non è Juventus. Fino a che c'è Allegri, non è Juventus. Punto. Inutile girarci attorno. Su John Elkan, su John Elkan, gente come me, e parlo per me stesso, appena mi sono messo su YouTube, ho detto, John Elkan è la rovina europea della Juventus. La mentalità, in generale, degli Agnelli è sempre stata provincialotta in Europa, ma John Elkan è ancora di più una rovina europea della Juventus. Quindi è inutile che lo dica adesso, lo dico da anni. Chi adesso tira fuori John Elkan è semplicemente per giustificare Allegri, perché potevi dirlo anche quando c'era Agnelli come presidente, quando c'era Sarri, Pirlo, no, invece le colpe erano di Sarri e di Pirlo. Quindi a questo, ripeto, a me pare abbastanza di giustificazione. Però, detto questo, detto questo, allora, questa è la situazione. Questa è la situazione. Società e Giuntoli non hanno preso per niente bene le parole di Allegri su Vlaovic. Adesso non so se c'è stato un confronto, se ci sarà e quant'altro, però sicuramente è già una prima pisciata fuori dal vaso di Allegri, di questa stagione qua. Vediamo se sarà la prima e l'ultima, o se ce ne saranno altre, e se poi dovesse essercene altre, se effettivamente verranno presi provvedimenti importanti questa volta. E sapete quali sono. Quindi, questo è il quanto. Io leggo di probabili sistemi di gioco di Allegri che può passare da un 4-2-3 a un 3-5-1-1. Io vorrei capire quale allenatore intelligente, anzi, quale allenatore in generale, passa da due moduli così completamente diversi. Cioè, ci sta che tu abbia il piano A, il 4-2-3-1, il piano B, il 4-3-3, o il 4-4-2 in extremis. Ma, non puoi passare dal piano A con la difesa 4 al piano B, o meglio, dal piano A con la difesa 3 al piano B con la difesa 4. Il piano A dovrebbe essere al difesa 4. Il piano B dovrebbe essere comunque un altro sistema di gioco che prevede la difesa 4. Perché le formazioni si fanno non solo sui titolari e con i titolari, ma anche con le riserve. Quindi tu devi prendere delle riserve che possano sostituire, a livello anche di ruolo e di sistema di gioco, i giocatori titolari. Perché se no, tu, allenatore che chiedi, tra l'altro certi giocatori, che sì, io, ragazzi, non lo voglio. A me non piace. Per me è un grande sopravvalutato che solo qui in Serie A potrebbe essere sopravvalutato in questa maniera qua. Ma anche a livello di caratteristiche. Cioè, tu hai il rabbio che strappa. Ricupera e strappa. Locatelli, che è più un incontrista che un centrocampista d'ordine. E se inserisci che sì, perché Pogba non dà garanzie. Un altro centrocampista muscolare. Cioè, tu fai un centrocampo muscolare e qualcuno mi dice, sì, ma con Allegri cosa ti aspetti? Sì, ma io non guardo Allegri. Non guardo quest'anno, io guardo oltre Allegri. Cioè, capite? Il mercato deve essere fatto non per Allegri quest'anno. Perché abbiamo visto che facendolo per Allegri fallisci miseramente. L'abbiamo visto lo scorso anno, che ha voluto Baredes, ha voluto Di Maria, ha voluto Pogba. Ha voluto Kostic, che Kostic per me è stato esaltato in una maniera allucinante. Lo stesso rabbio, che ha fatto tre mesi buoni. Perché dall'inizio del 2023 non ha fatto bene come hanno fatto passare. Cioè, i tre mesi sembrano che siano stati nove mesi. No. Quindi, questo, questo è. E quindi, ragazzi, fatemi sapere la vostra. Cosa ne pensate. E niente. Poi noi ci vedremo in live stasera alle 18, oggi alle 18, credo. Alle 12.45 ovviamente col tridente, ma non so se questo video andrà dopo il tridente. Vediamo. E niente. Ragazzi, fatemi sapere la vostra e ci vediamo ovviamente al prossimo video. Non credo ci sia altro da dire. La situazione è questa, non è cambiata di granché rispetto a un mese fa. A livello proprio di, diciamo, situazioni. Poi, come vedete anche nella nostra crew, faccio un esempio. Basta risistemare un po' le persone. Ok? Togliere qualcuno e, o aggiungere altro, o semplicemente togliere qualcuno, e poi c'è più armonia. Viene fuori più armonia. Stessa cosa per la Juventus con Allegri, secondo me. Tutto lì. Buona giornata a tutti.